Però in questo clima di, lei dice, i mali della giustizia vanno indicati, indicare anche le soluzioni, dicendo la verità. C'è un caso che ha fatto molto scalpore in questi giorni, cioè le accuse di Renzi ai magistrati che lo stanno indagando, no? Che sono tre i magistrati in particolare, che è il procuratore capo di Firenze Creazzo, il suo sostituto Luca Turco e il giudice Anastasi. Di ognuno di loro, questi tre sono stati denunciati per l'utilizzo di dati personali presi da un telefonino che, secondo il senatore Renzi, non dovevano essere diffusi e utilizzati perché attinenti alla sua azione di parlamentare. Ma questo è un fatto e su questo la magistratura indagherà sulla denuncia che è stata depositata, l'esposto, quello che è. Ma c'è una cosa che è nuova un po' in Renzi. Cioè Renzi dice, ma questi tre magistrati non sono degni di giudicarmi perché sono persone non sincere, non perbene, non indipendenti. Come vogliamo dire, uno è stato accusato di molestie, anche se in realtà ha fatto appello, quindi si vedrà come succederà. Cosa succederà? Uno era su un luogo della morte di Davide Rossi e non lo ha detto. Il terzo ha messo in carcere i miei genitori e poi sono stati scarcerati. Cioè ha, in qualche maniera, detto, questi giudici non hanno il diritto di giudicare me. Cosa ne pensa di questo attacco così frontale e così netto di un senatore indagato ai suoi indagatori? Io sono convinto che il senatore Renzi, così come qualsiasi altro cittadino, indagato o imputato, abbia pienamente il diritto di difendersi nel processo, ma non quello di difendersi dal processo. Cosa voglio dire? Fino a quando l'indagato o l'imputato denuncia i pubblici ministeri per presunte scorrettezze o addirittura per reati presunti nella conduzione dell'indagine del processo, è un suo diritto. Non mi sorprende la denuncia a Genova. Ovviamente del merito non so nulla e non mi permetterei di dire nulla sulla fondatezza o meno. ma sta nelle regole. Ma quando invece l'indagato o l'imputato, piuttosto che parlare dei fatti che gli sono contestati, difendersi da quei fatti, e casomai accusare la strumentalità dell'accusa o la irregolarità dell'acquisizione della prova, invece rivolge la sua attenzione contro le persone del pubblico ministero, contro la persona, contro il suo passato, allora siamo fuori dalle regole. Diventa un volersi difendere più dal processo che nel processo. Io penso che qualsiasi cittadino, e quindi ovviamente anche l'esponente politico di livello, come lo è il senatore Renzi, abbia tutto il diritto di difendersi nella maniera più completa possibile ma nel processo, non quello di attaccare aspetti personali della vita dei suoi giudici. senta.